Buonasera, sono le circa 20.30-20.40 del secondo giorno di mercoledì 10 febbraio e questa è la situazione. Come vedete sono in una stanza con piena illuminazione e con i miei occhi ho sempre dentro le famose lenti terapeutiche che però non danno particolarmente fastidio. È come avere delle normalissime lenti a contatto morbide, quindi ogni tanto vanno bagnate e tutto lì. Però ho messo i miei colliri, tutto quanto indicato dal medico ma appunto questa situazione, cioè tutta la fotofobia e il dolore che doveva iniziare questa sera per adesso non si vedono. Non lo so, non riesco a capire se è semplicemente presto e magari tra qualche ora inizieranno questi sintomi o se sono un miracolato rispetto alla media delle persone che hanno fatto questo tipo di intervento. Vi faccio vedere gli occhi più da vicino, come vedete sono così, normali, non li vedo neanche arrossati e affaticati. Metto i ricali da sole, non ne sento il bisogno in realtà, come vedete. Li metto più che altro come precauzione, comunque per proteggere un po' anche dalle genti atmosferici, tra virgolette perché sono comunque in casa. Però, insomma, si sa mai, ti lavi le mani, schizza un po' d'acqua, fai da mangiare, ti arriva qualcosa nell'occhio, tutto qua. Ma al di là di quello sto bene. È strano appunto, adesso vediamo, perché secondo quanto ha detto dal medico dovrebbe iniziare da stasera queste 24 ore un po' difficili, un po' problematiche, con forte fotofobia e anche qualche fastidio pesante, se non un dolore all'occhio, si inizia stasera bene, se no vediamo cosa succederà domani, vi aggiornerò poi domani mattina dopo la nottata. Basta, questo volevo dirvi, l'aggiornamento credo che sia completo, non c'è niente altro da aggiungere. Vi ringrazio e ci aggiorniamo domani. Ciao, ciao!